Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi spiegherò come togliere un vecchio tec come questo e applicarne un altro. Ecco, applicare una nuova soluzione di tec. Ecco, intanto si passa con uno scalpello come questo, gattellandoci così sulla testa. Ok, è un buon lavoro ma merita. Quindi si passa così con lo scalpello e si toglie tutto fino a dove si arriva senza togliere il gel coat. Dopodiché si passa con la levitatrice per rasare tutto a zero. Una volta rasato, ancora stato finito di rasare, si riempiono o si stucca tutto per evitare di ritrovare questi buchi e dopodiché si può passare con la vernice oppure con un antisdrucciolo come questo oppure con un nuovo tec. Ecco, con i collanti ovviamente. Questa è la prima puntata, vi farò altri video con gli aggiornamenti di questo lavoro. Un saluto a tutti, questo è la fine del video. Lasciate like, grazie a tutti. Grazie a tutti.